Allora questo è l'outfit che ho pensato e come vedete ha questa maglia senape e ha lo scollo aperto con una scolla V che ho deciso di mettere la parte diciamo davanti dentro lasciando fuori la parte di dietro ho messo questa gonna che è a tubino molto stretta con degli stivaletti con la punta molto semplice ecco qui con questo spacco ecco qui questa proposta vi possa piacere un outfit e un makeup autunnale un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao poi ho deciso di ingestare questa perchè non lo so mi piace poi è con il dorato e il marroncino e quindi penso che ci stia bene e questi orecchini semplicissimi sul bronzo e dorato con i colicini la capillatura è molto lasciata così scialla anzi no sta molto male e vedete questo è il mio makeup autunnale c'è la capillatura molto scialla e che ho deciso di mussare come vedete questo è il trucco muo si vede molto meglio la capillatura l'ho tolta perchè mi sembrava troppo eccessiva quindi non mi andava di strafare io spero che vi sia piaciuto questo video vi mando un grosso bacio ci vediamo al prossimo video ciao